Nei sotterranei e nelle celle storiche del castello aragonese di Castrovillari, le installazioni artistiche di Giovanni Callisto dal suggestivo titolo Vanitas. Ho ideato questa installazione riguardo anche alla storia di questo castello. Non dimentichiamoci che è un castello che per secoli è stata una prigione. C'è anche la famosa storia del fantasma, quindi già la morte, quindi la Vanitas in pittura, che cos'è? È un'allusione alla caducità della vita dell'uomo, quindi è sia la vita che la morte. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Mistica Calabria con il patrocinio del comune di Castrovillari. Questa mostra è un omaggio alle presenze e assenze che sono nel castello aragonese. Possiamo crederci o meno, ovvero è che qui per cinque secoli ci sono stati uomini e donne che sono stati rinchiusi e di cui non si è saputo più nulla. La mostra potrà essere visitata ogni sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.00.